io me ne sto sbattendo le palle dei nemici grazie me l'hanno ammazzato così ferito solo che palle dai su cosa abbiamo qua fucile a pompa urco orca puttana ma fanculo vai fottuto sai che cosa ti dico anche aspetta che forse stanno passando da qua allora ho bisogno di un'altra arma no non questa no obiettivo completato ce l'ho fatta mamma che fatica ragazzi ritirata totale bombarderanno il villaggio e il forte per coprirci andiamo grandioso ho mandato degli uomini a presidiare il forte sono già morti chi erano? solo dei volontari il che vuol dire tutti ovviamente dannati ragazzini alla sua età è normale non c'è da stupirsi foster merda devo salvarlo andate farò finta di non essermene accorto non è affar vostro si che vuoi un altro cadavere sulla coscienza forza su non avete molto tempo mi date qualche altra arma prima? no non è contemplato fottiti a mani nude a unghie e denti assaltare un forte da solo e ho dato a foster dell'idiota no ma non è stata una scelta intelligente forse la mia no forse non molto merda di prendere delle armi delle munizioni e delle armi dai ok mamma mia allora vediamo qua che cosa abbiamo merda una carabina di precisione che cazzo è sta roba chi cazzo vabbè allora da che cazzo di parte devo andare di qua dov'è l'ingresso di questo cazzo di posto allora vediamo qua mi danno poi i fucili a casa che c'è ancora sei sicuro che non vuoi spararmi? coraggio andiamocene questo posto rischia di crollare non possiamo andarcene non possiamo seminare i nemici con tutti i feriti bene vai tu io ti copro allora ma bishop ci sono ancora è stata di aver catturato il forte per distrarli dopo aver oltrepassato le linee alleate lancia un bengala allora me ne andrò disubbidiamo agli ordini ora immagino l'abbiate fatto anche voi vieni qui ecco ora hai proprio l'aspetto di un australiano coraggio ragazzi andiamo ma quindi fatemi capire fatemi capire devo gestire un forte qua da solo ma stiamo scherzando mi prendete per il culo porca puttana no poi con questi che urlano così mi ok che cazzo di lag è stata no non mi piace così ok questa è la camminata del gambero ok vattene via bravo bravo adesso stendiamo anche questo ma perché urlano in questo modo sono sempre tutti incazzati oddio c'è questo che mi ha visto attenzione aiuto mamma mia ma è pieno poi questo forte immagino dai sbrigati non mi piace stare qui così aiuto è che poi voglio anche cambiare arma pronti eh ciao coso ok allora qua c'è un altro incazzato da quanto ho capito mamma mia ok allora come armi direi che no ho sbagliato il tasto anche se quella cosa lì c'è chinosa non era male ma perché avete quattro fottuti colpi cioè ma che cazzo è siete dei suini e dove cazzo sono i vostri fucili ok allora ma guarda due colpi questo ne aveva due di colpi c'è sì c'è ok allora è il caso ciao è il caso che io cominci a segnalare un po' di queste persone giusto perché così mi rendo conto dove cazzo sono là non c'è nessuno là sopra ce n'è uno tutti gli altri non so nessuno oh dovrei provare ad andare da questa parte questi perché sono qui così morti oddio wow ho trovato un'altra di sta roba va bene non so che cazzo mi potrebbe servire ma va bene non c'è niente di interessante qua urca vacca vediamo no cazzo finisce qui così però vabbè intanto nella nell'esplorazione stiamo trovando queste cose che poi non so bene che cazzo potranno mai servire però che cazzo è sta roba fammela provare ma che cazzo è è una sorta di shotgun va bene vada per quest'arma dai probabilmente non ce la farò e di fatti porca puttana vediamo un po' come funziona questa ciao bella ok va bene allora adesso vediamo un po' che cosa ci tocca eh anche questa non sarebbe male ma oh madonna è chiusa oh cazzo va bene ok ci siamo siamo riusciti madonna che botte di lag ah perché sono gli inglesi questi vabbè vabbè a me va benissimo così no il lanciafiamme no il lanciafiamme ehi eh no che si fa così odio il lanciafiamme orca troia ok ok almeno va bene ma qua c'è la palla non mi interessa recuperiamo tutti i colpi possibili ok 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 madonna io qua mi sto cagando addosso era impossibile fare però furtiva sta parte madonna ho finito anche le granate tra l'altro in compenso loro le hanno ok ok conquista il cortile che cazzo è il cortile questo ok scusate eh granate queste mi piacciono dai dai prendile cavolo ok 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 buca puttana non lo vedo questo stronzo dov'è eccolo là ok puttana miseria mamma mamma questo stava per dove sono dove sono no porca puttana puttana miseria e vaffanculo cioè però ragazzi in un ambiente così stretto è un po' difficile poi con un lanciafiamme anche tra i coglioni vaffanculo dai avanti vediamo un po' ok non riesco a credere che stia funzionando davvero prendiamo queste granate e proviamo la tecnica di prima la tecnica vaffanculo della tecnica non ce lo fraccia più Un'azione Cazzo, cazzo Via, mi devo allontanare da lì Ok Oh là Così mi piace Un po' di proiettili anche qua Conquistiamo sta cazzo di piazza Finalmente ce l'abbiamo fatta Evviva Aia Vabbè almeno ce l'hanno fatta Li abbiamo salvati, va bene Eh figata Muore da eroe ma E quindi ad ammazzarci realmente Ok Mi piace molto come è fatto sto battlefield ragazzi Veramente bello Ok Direi che per questo oggi ragazzi e tutti Il porta ordini è finita, la missione porta ordini è finita Adesso ci tocca l'ultima missione ragazzi Per cui noi ci vedremo la prossima volta Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate Con un pollicino in su e un commentino ragazzi E noi ci vediamo al prossimo video Stati in campana Alla prossima Ciao 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 ciao